Sabato andiamo a incontrare Bedizzola nel secondo derby del girone di ritorno, una squadra sicuramente dal forte carattere, ma al di là di quello che può essere il carattere dell'avversario vorrei porre attenzione su quello che è il carattere della squadra che sta capendo sempre di più nel compattarsi e nell'uscire in qualche modo vincente anche in momenti di necessità e questa è una cosa che se riusciamo a comprendere e a portare in campo tutta la nostra felicità e compattezza sicuramente ci porterà risultati, sarà sicuramente una gara molto divertente con due squadre dal forte carattere, quindi buon divertimento a tutti!